Salve a tutti! Continuiamo oggi lo studio sui dissipatori per componenti elettronici con la parte riguardante i test termici. Che cos'è che andremo a vedere in questo video? In pratica andremo a fare dei test su due dissipatori che ho selezionato e che vediamo qui di fianco ed effettueremo alcune misurazioni in modo da poter ricavare dei dati importanti per la costruzione del nostro modello. Com'è che si svolgeranno i test? Ho scelto questi due dissipatori considerando anche l'assunzione teorica che avevamo fatto, ovvero che dovessero essere piccoli e con alto conduttività termica e quindi questi qui sembrano quelli più compatibili in quanto, come si può vedere, sono di dimensioni piccole quindi lunghezze e altezze sono contenute e soprattutto sono fatti di alluminio con un grosso spessore. Quindi in queste condizioni si può dire che quell'assunzione teorica è abbastanza rispettata. Il primo dissipatore che testeremo, ovvero questo qui, ha delle dimensioni pari a 45 x 50 x 2 mm di spessore, un'area, ovvero la somma di tutte le facce esposte, quindi questa, questa più questa qui, quindi dovuta anche al suo spessore, pari a 0.00488 m² e ha un coefficiente di emissività pari a 0.95 grazie a questa vernice nera che gli è stata posta sulle facce. Il test si svolgerà quindi facendo dissipare in modo via via crescente una certa quantità di potenza a questo dissipatore e quello che noi faremo sarà andare a riempire una tabella come questa. Ovvero andremo ad inserire nella colonna di sinistra i valori di potenza dissipata, mentre nella colonna di destra i corrispettivi valori di temperatura misurati per ciascun valore di potenza. Una volta completata la tabella andremo a riportare i valori misurati su questo grafico dove in ordinate abbiamo la potenza e in ascisse la temperatura e otterremo una curva, una funzione con un andamento di questo tipo. E grazie alla conoscenza di questa funzione saremo in grado di ricavare tutti i parametri che ci servono per costruire il nostro modello. Una volta completati i test sul primo dissipatore passeremo ad effettuare i test anche sul secondo dissipatore, ovvero questo qui che ha delle dimensioni pari a 60 x 122 x 2 mm di spessore, un'aria pari a 0.0154 metri quadrati e anche lui un coefficiente di emissione pari a 0.95. Anche in questo caso andremo a compilare questa tabella e successivamente andremo a riportare i valori raccolti su questo grafico che è lo stesso di quello visto prima. Il motivo per cui ripetiamo due volte questo test è perché voglio verificare che anche cambiando leggermente le dimensioni del dissipatore questi due grafici, queste due curve che otterremo siano congruenti, ovvero che il loro andamento sia simile anche modificando leggermente le dimensioni del nostro dissipatore. Quindi quello che adesso andremo a fare sarà effettuare questi test che ci siamo detti ed andare a riempire queste tabelle. Ho montato un MOSFET in package TO220 sul primo dissipatore ed è collegato al circuito di prova che abbiamo visto nello scorso video. Quindi quello sarà l'amperometro in serie al MOSFET e questo il voltometro in parallelo al suo drain source. Partiamo da una temperatura ambiente di 20 gradi, quindi l'ho segnato come base di queste prove che andremo a fare. La temperatura massima che andrò a raggiungere sarà 150 gradi e di volta in volta prenderò nota della potenza e della corrispettiva temperatura sul dissipatore, quindi andrò a riempire questa tabella. Inizio a fare i test e ci vediamo una volta che l'avrò compilata. Ho terminato le misurazioni sul primo dissipatore e l'ultima misurazione è stata di 13,8 watt con una temperatura massima di 153 gradi. Quindi quello che adesso andrò a fare sarà montare anche il secondo dissipatore ed effettuare gli stessi test. Ecco montato il MOSFET sul secondo dissipatore e adesso andremo a compilare nuovamente la tabella. ho terminato i test anche sul secondo dissipatore e l'ultima misurazione è stata di 29,51 watt e una temperatura massima rilevata di 147 gradi. Quindi adesso non ci resta che fare l'analisi dei risultati. ed ecco qui quindi le tabelle che riassumono i risultati dei nostri test, i risultati delle nostre misurazioni, quindi quelle relative al primo dissipatore e quelle relative al secondo dissipatore. Con queste tabelle possiamo passare quindi alla costruzione del grafico e quindi all'analisi della funzione che ne uscirà fuori e grazie a questa all'estrazione dei parametri che ci servono per costruire il modello. Ma questo sarà un argomento che verrà affrontato nel prossimo video. Per questo video quindi è tutto. Alla prossima!